Sì, certo, oggi ero un terzo di allenamento, era importante dare ritmo, dare intensità al nostro gioco, provare anche qualche situazione che abbiamo provato nei giorni precedenti e metterle in pratica e ovviamente noi siamo concentrati sulla partita di domenica che è sicuramente importantissimo. Sì, sì, la caviglia sta meglio, come hai detto tu sono riuscito ad allenarmi regolarmente questa settimana non avendo problemi e speriamo di arrivare alla migliore condizione domenica per la partita. Sì, non dobbiamo pensare al risultato dell'andata perché è sicuramente un'altra storia e saremmo anche un pochettino distratti dal risultato dell'andata che non ci deve interessare, noi dobbiamo soltanto pensare a giocare partita per partita, sappiamo che domenica sarà difficile perché viene un avversario tosto, però dobbiamo tornare a fare risultato in casa e a farlo diventare di nuovo il nostro fortino. Certo, dobbiamo sicuramente pensare a noi stessi e pensare risultato per risultato, non dobbiamo farci distrarre dalla classifica e dobbiamo continuare sulla nostra strada tramite il lavoro e tramite la determinazione che mettiamo tutti i giorni.